Ciao, ti do il benvenuto a consueto aggiornamento ciclo per quanto riguarda l'S&P 500 con l'indicatore Bolton. Così come tutti gli altri indici, a parte il DAX esploso, cioè Europa esplosa ieri, va bene, è tutto, ma 500 punti di rialzo, la roba fotonica, quasi 500, e America con le scadenze di oggi, a differenza di Europa, ha avuto, lo vediamo, una flessione incredibile rimangiandosi tutta la salita di ieri, anche la salita di ieri a mio avviso è totalmente immotivata con conferme dell'inflazione al rialzo in America, un S&P che si è sparato ieri 45 punti su dati ovviamente pessimi per quanto riguarda l'economia americana, ma anche qua credo che stiano scommettendo su un'interruzione, presumo, dell'aumento dei tagli da parte della Fed settimana prossima, ma chiaramente lo vedremo, ma tornando a noi abbiamo un S&P che è totalmente laterale, un punto di vista ciclico, piccolo del ciclo a 40 giorni previsto per il 15 di settembre, quello del ciclo a 20 giorni lo vado a questo punto a spostare perché è previsto per il 20 di settembre, quindi abbiamo a disposizione 4 o 5 giorni dopodiché da un punto di vista ciclico inizierà una fase ribassista, iniziamo ad avere scendamento un'altra line cicla da tracciare, in questo caso del ciclo a 20 giorni, lo mettiamo qua così, vediamo il colore, stavo per fare una scemenza, il colore giusto, quindi 20 giorni, viola, perfetto, e andiamo a vedere adesso su 3D in view che cosa ci aspetta, qualche giorno ancora di attesa, ok, però già un 40 giorni in realtà ci sta dicendo che potremmo è, ho sbagliato scusatemi, che potremmo essere vicini a un picco, quindi rimaniamo un po' in allerta per un ribasso. Buona presentazione, sono Paolo Pisino, sono in 3D dal 2007, mi puoi trovare sul sito www.intradinpertutti.com, sotto in descrizione troverai tutti i link per poterti collegare al mio sito e prendere visione di ciò che metto a disposizione, chiaramente oltre al canale YouTube ti invito anche a registrarti al canale Telegram gratuito e visionare i servizi, segnali in 3D sugli indici, indicatore Volten per poter lavorare con il mio metodo, avrai accesso all'indicatore, canale Telegram di supporto e i video didattici, corso di analisi ciclo e volumetica, se vorrai approfondire totalmente la mia metodologia, 58 ore di formazione complessive, un anno intero di canale Telegram, invece il corso chiaramente lo potrai vedere per tutto il tempo che vuoi perché è illimitato dal punto di vista della scadenza, e due coaching individuali con me per poter imparare a utilizzare al meglio l'indicatore, 12 mesi di segnali sul DAX. Indicatore non c'entra nulla con l'operatività mia, nel senso che sono comunque sempre un essere umano e qua lo vediamo chiaramente, a settembre sto subendo una perdita, siamo a meno 388 punti, sostanzialmente ha zerato il mese di agosto che è stato un mese positivo, 3 stop loss nel mese di agosto, un numero mostruoso di stop, un grande numero di stop nel mese di settembre e non mi sono mai nascosto, mai mi nasconderò. Questo qua è stato una sorta di error, ho preso un breakout istantaneamente dopo il mercato, mi è andato contro e la beffa qual è stata? La beffa è stata che quando ho deciso di chiudere le due operazioni, questa era una operazione che avevo chiuso al mattino, che tra l'altro sono andata in profitto di 40 punti, o questo non ricordo, quando ho chiuso, classico no? Tipo se non mi ricordo se qualche minuto dopo il mercato è partito dalla mia ed è andato in iper profitto, questo il 12. Qui sono entrato al mercato ed è sceso improvvisamente di un numero di punti fotonico, senza news, senza nulla per poi andare a recuperare tutto in giornata, però lo considero comunque un errore perché è una mercata che quest'anno del poi mi potevo risparmiare perché eravamo vicino, un picco ciclico e sono andato a prendere comunque un rialzo perché era in trend, quindi consideriamolo pure un errore, mese negativo. Andrò ad aggiornare poi nel weekend se ho voglia, sono sincero, ma credo di sì, anche la slide. Potrei comunque vedere qua tutto il resto, l'anno al momento 1230 punti chiusi nel primo semestre, se siamo ancora in profitto, praticamente questo mese e questo mese qua sono azzerati, ok? Vediamo qui la fine dell'anno come andrà, ho ancora delle posizioni aperte sul DAX, mi auguro di chiuderle in profitto o almeno a pari, se così non sarà troverete l'aggiornamento anche poi per quanto riguarda il DAX. Andiamo a vedere adesso cosa dobbiamo fare quindi sull'S&P. Abbiamo una fase di rialzo fino al 15-20 di settembre, quindi c'è oggi il 20 inizio settimana, quindi per me il long è da escludere, non lo prenderò più in considerazione. Andiamo a vedere l'ES, quindi il future dell'S&P, togliamo questo livello qua, andiamo a metterci a questo punto l'altra line che ho già tracciato, che devo andare a poter vedere di qui perché non so com'è, ok, quindi qui, qui, dove cavolo è finito? Perché perdo i pezzi? Eccolo qua, minimo, minimo, 20 giorni, dai, tra noi 20 giorni, aspettiamo la rottura della trendline e potremo andare a cercare degli short, questo non ho il più logico di essere qua, ce lo leviamo dalle scatole, ovviamente il primo livello che abbiamo a disposizione sarà tutto a questo blocco, per me tutte queste aperture e chiusure direi che le potremmo considerare forse il livello più importante, comunque qui intorno ci sarà eventualmente da liquidarlo per attività e abbiamo un bel po' di spazio perché stiamo parlando di qualcosa come 70 punti a disposizione S&P, che sono tanti, con chiusura sotto la trendline del ciclo a 20 giorni. Con questo direi che è tutto, vi auguro un buon weekend e ci aggiorniamo poi domani per... domani è sabato per, non mi ricordo cosa c'è, vabbè, quel che c'è, Dax e Mib nella giornata di domani ed Eurostop. Ciao ciao!